Musica Salve amici appassionati di Football Manager Qui con voi come sempre c'è Mac94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui con il secondo episodio con il nostro mitico Schalke E come ben vedete sono ancora al primo giorno, non sono andato avanti Ma per un semplice motivo ho pensato che era inutile impostare una carriera e un mercato Senza ancora decidere quale tattica utilizzare E quindi oggi cosa andremo a vedere? Andremo a vedere le modifiche, piccole modifiche che ho fatto allo staff E soprattutto le tattiche, perché sono due Che andremo a utilizzare con questo nostro Schalke 04 E credo che non ve le aspetterete per niente Per quanto riguarda lo staff, come è uguale a come potete vedere Come rispetto alla puntata credo ieri Solo sempre che se ne è andato Ubschner Ubscher, vabbè comunque Ho preso due osservatori che non avevano squadra Ma che sono veramente veramente molto validi Questo Borba Filnio Figlio, vabbè come si chiama Giudiziabilità 17 Giudizio potenziale 17 Conoscenza in Brasile, Argentina, Colombia, Arabia Saudita I primi due soprattutto ci interessano tantissimo Ma anche la Colombia perché sta sfornando diversi campioni E il secondo, Mauro Pedersoli Che non conosce solamente l'Italia Ma anche l'Inghilterra e la Spagna E guardate qua, giudiziabilità 18 Giudizio potenziale 19 E non li paghiamo nemmeno tanto Devo essere sincero Perché Mauro Pedersoli mi pare verso i 160.000 Invece Borba Filnio 130 Quindi veramente poco Rispetto a tanti altri nostri osservatori Che sono molto più scarsi rispetto a loro Quindi come già vi ho detto In questa puntata andremo a vedere più che altro la tattica E vi dirò quali reparti dovremo un po' coprire Quindi se volete mi aspetto vostri consigli Per giocatori appunto di questo ruolo Piccolo riepilogo Farman sono ancora un po' indeciso Se mandarlo via o no Infatti per il momento non l'ho messo in squadra Chi se ne andrà ovviamente sarà Fax Ogher E se lo prenderanno Barnetta Anche se un po' temo che rimarrà con noi Perché non è richiesto Comunque le tattiche Rullo di tamburo immaginario La prima tattica è questa Un misto fra Grazie al consiglio di Massimiliano Un misto fra il Bayern Monaco di Guardiola Quando gioca con la difesa a tre Un misto Questo lo dico io Del Napoli di Mazzarri Quando c'era Cavani E qui giocavano Amsic e Pandev Un misto anche di come giocavo io Prima della difesa a quattro Già ve l'ho detto con lo Spezia Che giocavo anche col 3-4-3 Oppure giocavo con 4-3-3 Però in un modo diverso Rispetto a come abbiamo visto con lo Spezia Però comunque Non lo so Già da ieri ci stavo pensando tanto A questa formazione Secondo me è una buona squadra E lo può fare Perché ha due difensori Sì molto molto alti Ma anche molto veloci Quindi giocheremo un po' come la Juventus Ma non come con la Juventus Perché è diversa la formazione di Conte Ripeto Giochiamo un po' come Guardiola Qui di solito c'è Goetz e Ribéry E qui Lewandowski Poi qui Robben Oala Balam Insomma Non siamo il Bayern Monaco Ma cerchiamo un po' di imitarlo Quindi 3-4-3 I titolari dovrebbero essere Ogifer, Ovetklo Magifer per il momento è infortunato Felipe Santana Uvedes Felipe Santana che dà partente a titolare Bellissimo Uvedes Matip Augo Kolasinac Voglio dargli fiducia Perché mi piace È un buon mediano E ci serve Non è scarso nemmeno con i piedi Come potete ovviamente leggere anche qui Ho dato anche le varie impostazioni A tutti i singoli giocatori Due difensori Sono Uvedes e Santana Hanno difensore centrale Entrambi che difendere Invece Matip Lo faccio impostare Diciamo un po' più bravo con i piedi Rispetto a questi due Quindi preferisco che imposti lui E marca Insomma fa un po' più di pressing Rispetto a questi due E poi come allenamento Ovviamente vi ho messo anche Difensore che imposta I più giovani I 22 Circa dai 24 anni in giù Ho messo tutti In allenamento pesante Nel ruolo in cui giocano Quindi non vi faccio vedere Singolo giocatore Però Per ogni giocatore Anche Gifer Ovviamente allenamento Ruolo portiere Pesante Quindi sono tutti belli pompati In allenamento Aogo e Boateng Perché questa scelta sulle fasce? Perché sono due giocatori Soprattutto Aogo Veloce Comunque un giocatore Abbastanza veloce E' comunque difensivo Come anche Boateng Bravo sia con i piedi Non è lento Anzi forse è più veloce Di Aogo Rispetto a come ne pensavo E poi comunque Non è scarso in difesa Ed è buono comunque Con i piedi Quindi è molto utile Poi i due medianacci Non mi fa impazzire tanto Mi dispiace Che sia comparso questa cosa sotto Ma non ci posso fare niente E comunque Quindi questa è la formazione Mentalità standard Perché non giocheremo più Col contropiede Dello Spezia Ma è nemmeno troppo offensivi Visto che In caso di partite toste E' meglio rimanere così Anche perché Sapete benissimo Il campionato tedesco Non è affatto facile Invece Disposizione in campo Messo fluida Più che altro Per vedere se tutti i giocatori Riescono a fare un po' Tutte le fasi Ma soprattutto Mi interessa Che questi qui A parte Hunter Diano una mano Molto alla difesa Infatti Come potete ben vedere Sam e Draxler Hanno attaccante Che pressa E attaccante Che pressa entrambi Uno a sostenere Quindi pressa i difensori Cercherà di non farli impostare E l'altro difendere O il contrario Comunque Farà pressing Sui centrocampisti Quindi cercheremo Di pressare già Nel momento in cui Impostano l'azione Cercheremo di non dare Ossigeno Infatti il ritmo È molto più veloce Ovviamente Teniamo palla Passaggi più corti Lo sapete A me piace Un gioco impostato Sui passaggi corti Giocate la palla Negli spazi Partite la palla A terra La difesa Sapete Benissimo Che io non amo I lanci lunghi Lo so che è un mio difetto Un mio limite Ma non mi piacciono Abbiamo sì Una torre come Untelar Ma abbiamo talmente Tanta quantità E quantità Al centrocampo Che è meglio Far impostare L'azione Ai centrocampisti E non al portiere Soprattutto perché Vetclo non mi pare Che abbia le capacità Di impostare E Gifer è ancora Troppo giovane Comunque cercate Di sovrapporvi Sfruttare le fasce Qui invece c'è una nuova In difesa Molto più pressing Invece di più pressing Molto più pressing Marcate stretti E qui ho messo Fate fuori gioco Vediamo un po' Se funziona Questo fatto E poi Il ritmo Più veloce E poi L'altro invece Modulo Questo anche mi è stato Consigliato da un iscritto Ma è anche quello Che utilizzavo Con lo Spezia Il 4-2-3-1 Vabbè Qui giocavamo Con Afellai No Qui Afellai Depai E Bagua E il buon re Scaldani Con due centrocampisti Medianacci Di solito erano Medesh O Batu Ma comunque Anche Bovo E niente Comunque siamo Possiamo benissimo Fare questo Modulo Ovviamente Sam gioca qui Ma non voglio fare movimenti Che sennò Mi scombina anche La formazione di prima Comunque E ugualmente Buonissima Però volevo provare Una formazione inedita Che non abbiamo mai Mai visto Almeno nel mio canale E già lo dicevo L'anno scorso Che volevo provare Questa difesa a 3 E credo Che abbiamo La squadra adatta Un po' meno Per Draxler Ma ragazzi E' giovane Quindi può imparare Un nuovo modulo Poi ovviamente Se non va Ci buttiamo a bomba Sul 4-2-3-1 Forse vedo anche Un po' più Un caso Di partite sofferte Questo è un modulo Anche un po' più in difesa Perché Aogo e Boateng Possono scendere O addirittura Boateng lo posso togliere E ci mettiamo uccida Che adesso però E' infortunato Detto questo Volevo fare un video breve Ma Io c'arlo sempre tanto Che dire ragazzi Allora Come squadra Va più che bene Se riusciamo a vendere Determinati giocatori Soprattutto Per la seconda squadra A me sembra Che non ci sia Nessun campionato E quindi La maggior parte di questi Andranno in prestito Sperando che qualcuno Si riprenda Oppure Andranno in under 19 E sti cazzi E quindi Che cosa ci servirà Ah Un'altra cosa Ho messo anche Le responsabilità Dello staff Allora Come vabbè Potete leggere Benissimo voi Senza che ve le dico Tutte quante Quello che ho cambiato Soprattutto E' il fatto Che di solito Il responsabile De sviluppo i giovani Vi compra dei giovani E questo non mi piace Perché soprattutto Nelle grandi squadre Vi può Vi può anche capitare Che vi compra Un giovane Fortissimo Ma che vi spendono 6 milioni E sinceramente 6-7 milioni E sinceramente Ti girano un po' Le palpebre Può capitare E a me non piace Se io devo comprare Un giovane Lo voglio comprare io Non voglio che sia Un altro Che lo compri Perché puoi anche Comprare un giovane In un ruolo Che a me non serve Ad esempio In difesa Siamo abbastanza A posto Come giovani Perché come numero Purtroppo Non lo siamo Comunque Detto questo Allora A noi cosa ci serve Soprattutto In porta Siamo a posto Perché abbiamo Wetclaw Gifer Ci abbiamo diversi Anche in primavera E se non riusciamo A vendere Farmer Ci abbiamo anche lui Che poi sarà Il titolare In difesa Adesso Giocando Quindi con la difesa Dove difensori ci servono Semmai uno di esperienza E io qui ho la lista Degli svincolati Che sapete Ci sguazzo volentieri Fra gli svincolati E ce ne sono diversi Buoni Discreti Possibilmente anche Un difensore centrale Abbastanza veloce Perché Devono correre Insomma Essendo solo tre Devono fare molte fasi Poi ci servono Anche due centrocampisti Centrali Perché abbiamo Solo Haihan Colasinac E Neude Stader Come difensori Più che altro Ci servono difensori Che siano Sia bravi Con i piedi Ma che siano Anche molto bravi A difendere E purtroppo Non ce l'abbiamo Cioè Molti giocatori Che abbiamo Possono giocare Centrocampo Ma Sono tutte Pippe In difesa A parte il buon Boateng Però se Boateng Gioca a titolare Qua a destra Non mi sembra Opportuno Farlo giocare Centrocampo Quindi comunque Due centrocampisti Centrali Uno Forse già C'ho il nome E sarà una grande Sorpresa Soprattutto per chi Mi segue Dal periodo Dello Spezia Insomma Dalla serie Con lo Spezia E infine Sulle ali Ragazzi Siamo apposto Ci abbiamo Veramente una caterva Di nome Ci abbiamo Ucita Clemens Barnetto Basi Moting Ci abbiamo Sanese Se non lo riusciamo a mandare in prestito Questo Avdi Judge Che sempre se non lo riusciamo a mandare in prestito Ce l'abbiamo E anche Meier Sono un po' indeciso Se mandare in prestito Quest'anno Oppure no Comunque ci abbiamo Un casino Di nomi Sia per il centrocampo Che come seconde punte Insomma Ci serve almeno Un attaccante Perché questo Ciupo Moting Io vorrei provare a venderlo Se non ci riesco Ovviamente Già io ho messo come Allenamento Prima punta Anche perché È un metro e novanta Però io A gennaio O comunque l'anno prossimo Vorrei venderlo Quindi Minimumino Un attaccante Ci serve Perché l'altra alternativa Serebbe Gerald Asamoah Che però Ha 35 anni Ragazzi Può giocare Ma proprio come Ultima alternativa Io lo tengo Perché comunque Si prende Proprio niente Quindi Ricapitolando Mi aspetto da voi Consigli per due difensori Due centrocampisti centrali E un attaccante Ovviamente Se conoscete Un laterale Forte Bravo Giovane E a poco prezzo Consigliatemelo pure E detto questo Come sempre Un saluto Da Mech94 Mi raccomando Dateci dentro Con i consigli E ovviamente Un saluto Da Football Manager Italia Ciao ragazzi